Il professor Carlo Amirante 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 devo riuscire insomma a intervistare io non sono minimamente all'altezza di fare questa intervista però mi adeguerò, per fortuna come dico sempre mi limito a fare domande le risposte le danno loro e quindi andiamo avanti professore benvenuto e buon anno grazie per aver accettato il nostro video qua in televisione è un grande onore per me anche un piacere perché ho lasciato un pezzo di cuore in Sicilia avendo insegnato per 4 anni a Catania, quindi adoro la Sicilia, mi fa piacere il giorno 7 di gennaio come ogni anno da un po' celebriamo la nascita diciamo così del tricolore italiano, noi parliamo però di costruzione vanno inaccoppiate in un certo senso le due cose, qual è lo stato di salute della nostra bellissima costruzione, professore? sì lo stato di salute della nostra costruzione vive uno stato piuttosto complesso perché certamente la costruzione è vigente nessuno può negarla però rischia per alcuni aspetti di soffrire di una situazione di anestesia dovuta a una serie di situazioni alcune vengono da lontano cioè la prevalenza rispetto alle scelte fondamentali soprattutto in materia economica di regole sovranazionali fissate in gran parte dall'Unione Europea dai trattati europei quindi ci hanno imposto la riforma del bilancio articolo 81 il patto di stabilità e sicurezza il fiscal compact tutte regole che rendono difficile la vecchia via keynesiana del periodo più favorevole dell'economia italiana quella che ha consentito il grande boom nel secondo epoguerra all'Italia di diventare la settima potenza mondiale alla moneta italiana di essere considerata in una certa fase la moneta più solida d'Europa premiata addirittura di un premio per questo motivo soffriamo diciamo così l'Europa soffriamo un po' di un'Europa che è più un'Europa diciamo così burocratica monetarista finanziaria che non l'Europa di un'economia votata alla massima occupazione e a uno sviluppo economico destinato ad ampliare i diritti sociali questo però un po' anche per colpa nostra perché per esempio alcuni grossi esperti di economia del sud come personaggio Graziani che fu preso poi a Cosenza nel periodo in cui ho insegnato lì e tanti altri hanno sostenuto per esempio il mio amico Carlo Panico docente a Napoli che se i fondi comunitari fossero stati utilizzati nel modo più proprio sia in Sicilia che in Calabria che in Campania queste regioni vivrebbero una condizione economica molto migliore di quanto non vivono mentre invece in altre regioni del nord per esempio la Toscana ma anche altre anche i milanesi naturalmente sono stati utilizzati meglio quindi hanno favorito uno sviluppo economico che ha vantaggiato anche l'occupazione Insomma quindi recriminiamo il fatto di non essere più un regno delle due Sicilie la butto lì banalmente in un certo senso Sì sì certo magari si è esagerato un po' però ci sono libri che parlano di una quarantina di grandi primati si è cominciata la prima ferrovia nel Napoletano e di tanti altri settori di avanguardia che dopo l'unità d'Italia sono stati messi in crisi purtroppo dal fatto che gran parte dei fondi poi delle banche napoletane sono stati trasferiti al nord e hanno favorito lo sviluppo del nord invece che il nostro e sono stati commessi degli errori nel campo e turismo che allora però non è ancora così importante come è avvenuto in seguito perché è il turismo del Gran Tour dei grandi intellettuali di Goethe che adora Napoli esattamente e così via e quindi abbiamo avuto le conseguenze molto concrete del fatto che Napoli e Palermo le due grandi capitali del sud non hanno ottenuto quei fondi e quell'attenzione che avrebbero consentito loro di sviluppare ulteriormente tutto lo straordinario patrimonio culturale urbanistico che aveva bisogno di essere restaurato per esempio so che alcune incredibili ville di Palermo distrutte dalla guerra poi non non ci sono stati fondi per restaurare la questione del mezzogiorno che rimane aperta come una ferita che non riusciamo a vedere rimarginare da questo punto di vista la nostra è una costituzione che va ammodernata ci stanno tentando in diverse maniere negli ultimi vent'anni ma è necessario ammodernarla ma io penso che il tipo di riforme che sono state fatte io fra l'altro per esempio nel caso per essere molto chiari della riforma anche nel caso della bicamerale praticamente gran parte dei costituzionalisti furono contrari qualcuno si fece convincere a dare una mano poi per fortuna tutto fallì nel momento in cui Berlusconi giocò il jolly del presidenzialismo che adesso vedremo che ritorna e a quel punto da lei ma anche se era stato un po' il patrigno di quella scelta però non ci stette più e la grande riforma che era cominciata già prima con altri tentativi di commissioni bicamerali siamo ancora la costituzione più bella del mondo ma in parte sì però l'ultima riforma in cui noi non siamo stati in grado noi costituzionisti siamo scesi in campo sempre in questi casi nell'ultima non abbiamo avuto lo spazio e il tempo di farlo perché secondo me anche per una responsabilità del presidente della repubblica è stato indetto il referendum cosa vietatissima anche da una legge specifica contestualmente alle elezioni amministrative il che ha consentito allora poi agli avversari del status quo diciamo così del Parlamento del numero di parlamentari e senatori di sopraffare invece le critiche fondatissime purtroppo perfino qualche collega perfino qualche ex presidente della Corte Costituzionale ora defunto non si sono resi conto che mentre il risparmio economico della riduzione dei deputati e senatori era minimo e invece la diminuzione soprattutto al Senato porta conseguenze gravissime per essere molto chiari per chi non è un costituzionalista guardando la telecamera sì per chi non è in grado di capire fino in fondo quali sono le conseguenze al Senato essendo costituito da soli 200 membri c'è il rischio siccome c'è sempre qualcuno che è assente per impegni magari internazionali qualche altro che è ammalato insomma si rischia di avere maggioranze di 80-90 persone che sono pochissime che impongono una legge negativa passata dalla Camera che una volta il Senato come Camera di Ripensamento poteva bloccare oppure favoriscono l'approvazione rapida di una cattiva e quindi anche in caso che su decreto si ponga il ricatto della questione di fiducia è un numero ristrettissimo di persone può decidere in un senso o in un altro mi sembra che sia stata una riforma propita una porra dei rimedi probabilmente in futuro certo si spera però che la crisi terribile che poi c'è anche molto da discutere sulle modalità anche sulla secretazione dei fondi e dei mezzi che vengono mandati in Ucraina perché la Repubblica italiana dipudia la guerra come offesa agli altri popoli come strumento di risoluzione in questo caso si tratta di risolvere una controversia internazionale secondo la nostra Costituzione le armi sono lo strumento meno idoneo a favorire quindi in una situazione di emergenza magari iniziale la situazione può essere anche discusso ma che si pensi di andare avanti adesso per anni mandando sempre più armi e danaro e creando una situazione di povertà per larghi strati della popolazione italiana mi scusi per la domanda professore lei da costituzionalista giustamente magari rischio di offenderla non voglio ma fondamentalmente lei sta dicendo mi sta facendo capire che in gran parte negli ultimi 20-30 anni la nostra Costituzione è diventata carta straccia e non per colpa di chi la difende la sua tratta questo non è vero completamente una parte di responsabilità di questo è dovuta pure agli italiani perché stavo dicendo questo le sinistre soprattutto lei si ricorda che si è parlato per anni adesso questa parola è proibita di arco costituzionale anche perché chi non c'era adesso invece è al comando nei posti di comando arco costituzionale che riguardava tutti i paesi e i partiti tranne la MSI da un lato dall'altra parte il partito comunista però il partito comunista e il partito socialista anche se in una certa fase storica fino agli anni 60 quando è cominciato il primo compromesso storico non facevano parte dell'arco costituzionale però data la loro presenza molto significativa e il fatto che fossero seguiti molto anche da l'indagato più forte la CGL e avevano un peso determinante soprattutto in Parlamento tanto è vero che poi le riforme più importanti che sono avvenute dagli anni 60 in poi senza i voti di sinistra non si sarebbero mai realizzate la casa la famiglia il diritto di famiglia lo statuto dei lavoratori l'allargamento dell'università l'ampliamento della linea della scuola dell'obbligo tutte cose che si potevano realizzare soltanto con la partecipazione delle sinistre poi c'è stata la cosa improvvida dell'attacco della privatizzazione dell'attacco quindi alle partecipazioni statali che anche se state create in condizioni diverse dal fascismo però avevano avuto un ruolo determinante per il grande boom economico italiano bisogna dirlo per verità storica che del resto che fossero delle istituzioni valide è dimostrato il fatto che Roosevelt mandò a suo tempo addirittura quando c'è il regime fascista a capire come queste istituzioni funzionavano e a maggior ragione nel secondo dopo è lì comunque ancora ora è una grande potenza tecnologica che riesce a risolvere i grossi problemi in vari paesi quindi noi dovremmo rilanciare con un'Europa più politica e meno monetaria diciamo e meno monetaria che ne esiste ma poi appunto perché i cittadini italiani non sono tanto affezionati perché purtroppo nelle scuole non si insegna lei ha girato il mondo questa cosa non l'accetto che noi italiani non siamo patriottici diciamolo chiaramente o lo siamo pochissimo poco attaccati alla nostra terra alla nostra nazione alle nostre tradizioni alla nostra bandiera alla patria è un problema sì perché gli italiani non sanno che la Costituzione contiene i diritti e i doveri dei cittadini e perché c'è questo primato in certi settori perché per esempio i miei amici tedeschi anche un grande Costituzione di Steninger di cui ho tradotto un libro diritti umani e legge fondamentale e si rammaricava che nella legge fondamentale tedesca non c'è un articolo come quello del 32 che parla di diritto alla salute in un convegno internazionale ricordo ero in Belgio associazione internazionale di scienze politiche International Association for Political Science dove c'è un mio saggio in francese secondo me ancora attuale e io mi beavo del fatto che i miei colleghi che poi erano economisti ingegneri e anche giuristi ma non solo giuristi per questo era interessantissimo c'era gente che veniva dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale quindi era una discussione a tutto campo e dicevano che l'USL a suo tempo era uno dei sistemi più avanzati del mondo poi dopo c'è stata la degenerazione della lunga marcia della politica per impossessarsene e poi la sottrazione di fondi la generalizzazione finché si attiva il famoso film di sordi su un medico della mutua che fa capire che le cose cosa possiamo fare per far ritornare un po' di amor proprio a questi italiani soprattutto alle giovani generazioni professore prima di tutto per esempio anche di fronte ai rischi che questo governo può comportare sia con la riforma della giustizia sia per certi provvedimenti che per esempio si dicono rivolti a impedire certi abusi dei REV però poi potrebbero essere usati e già infatti ci sono stati alcuni scontri tra la polizia e gli studenti anche medi anche molto giovani che veramente non si verificavano da molti anni i cittadini vorrebbero sapere che nella Costituzione c'è questa doppia riserva di legge e di giurisdizione per cui un diritto fondamentale può essere limitato solo con una legge legge approvata possibilmente dal Parlamento e non dal decreto legge che urgenza c'è di stabilire che ci dovrebbe essere meno libertà all'università e alla scuola ammesso che si vogliano introdurre queste limitazioni non c'è quindi se proprio si vuole cambiare qualcosa che venga fatto in Parlamento a base di un'ampia discussione che poi venga ripreso dai giornali dai media anche da voi altri che hanno un ruolo importantissimo da svolgere di mediazioni quindi questo è molto importante e poi sull'aspetto economico le differenze fra la Costituzione italiana e i trattati ho detto anche in un'altra sede nella Costituzione italiana la parola mercato manca per esempio da Giuliano Amato è stato spesso o da Cassese indicato questo fatto come un grosso difetto ma la differenza con Unione Europea è che ci sono 80-90 casi in cui si parla di moneta di banca di euro e quindi si vede subito la differenza fra una Costituzione da Stato sociale come la nostra e una Costituzione previamente neoliberista antichenesiana in America si è addirittura arrivati a dire che sarebbe stato meglio che Keynes non fosse stato mai nato non fosse mai nato perché così questo cattivo genio del deficit spending e quindi investire per favorire l'occupazione e aumentare i diritti sociali i diritti ai cittadini e l'occupazione non ci sarebbe stata adesso però c'è una ripresa c'è una ripresa io con il mio amico la Malfa Giorgio che è il figliuolo di stiamo pensando di fare una cosa interessante gli devo fare la recensione del suo bel libro ultimo su Keynes e poi di fare un libro su Keynes e Marx cioè Keynes l'aspetto allora quando sarà pronto l'aspetto qua di nuovo Keynes come il critico all'interno del sistema però un critico molto forte perché c'è una famosa frase che dice che le politiche spesso sono orientate da vecchi economisti che non sanno nulla che non si aggiornano e che non riescono a capire che il sistema economico è un sistema complesso che non può essere fondato soltanto sul mercato né soltanto sulla moneta come elemento che dirige tutto il sistema ma il lavoro l'occupazione e la produzione per l'occupazione deve essere fondamentale in questo senso assomiglia quasi più all'analisi di Marx che parla di modo di produzione non di mercato cioè in modo come si accordano le finanze il capitale il lavoro lo sviluppo tecnologico questo è il grosso problema il grosso problema questo forse non so se siamo in fine vorrei accennarlo cioè si sta parlando molto di algoretica io poi le lascerò un documento cioè l'etica degli algoritmi un discorso che in America si è già fatto da anni però il concetto di algoretica anche in sede in questo caso Vaticano va detto è stato portato avanti da un italiano cioè l'etica degli algoritmi cioè è possibile noi viviamo oggi una vita in cui se dobbiamo prenotare un aereo un soggiorno una nave oppure anche se dobbiamo sapere per esempio conosci i dati statistici sul sistema o disfunzione del sistema fiscale dell'occupazione eccetera ci rivolgiamo a una macchina in America per esempio già i grandi studi delle multinazionali alcune ricerche non sono più affidate alle persone ma esattamente alle macchine è possibile che decisioni fondamentali siamo nell'era dei big data certo che riguardano la nostra vita devono essere orientate dalle macchine è una domanda che merita risposta adeguata il tempo della nostra risposta è finito però io mi aspetto che lei ritorni me lo promette che ritorni grazie ci sono tanti libri che stanno uscendo e noi dobbiamo parlare di questa etica e dobbiamo parlare anche dell'ecoetica perché dobbiamo salvare il patrimonio ecologico e anche la fauna e gli animali però se non teniamo conto anche dei problemi del lavoro e dell'antropocene cioè il fatto che oramai siamo 9 miliardi e le riforme resteranno come sono state finora un flatus lobocis non verranno applicate approfondite questi temi ai quali ha accennato il professore Amirante Carlo Amirante ne trovate diversi di libri e di pubblicazione appunto a sua firma un lavoro incessante come vedete io lo posso dire quanti anni ha professore? lo posso dire quanti anni ha? lo dico 87 mi pare e insomma e quindi 87 anni di studi non mi fa piacere perché di approfondimenti lo capisco mi piacciono ancora le belle signore e questo è anche un buon motivo in più per averla ospita la prossima volta purtroppo sono rimasto vedo e quindi la solitudine è una cosa terribile professore l'aspetto davvero un'altra volta questa è stata res pubblica adesso chiudiamo la sigla ci rivediamo prossimo appuntamento venerdì arrivederci un'altra volta un'altra volta un'altra volta